Oggi come oggi il mercato internazionale è molto esigente, le aziende come le nostre che pur sempre sono ben strutturate non fanno in tempo lo stesso a soddisfare un certo tipo di commesso e per cui bisogna ricorrere per forza e per forza per ovvie ragioni a creare una sorta di reti d'impresa dove si possa soddisfare veramente il mercato e questa è la strada per il futuro ma soprattutto per le nostre aziende della provincia di Varese ma soprattutto per il campo generazionale dei nostri figli. Il futuro è solo questo.